Dopo l'uscita di scena dell'Ebolitana, l'unica squadra a sud della provincia di Salerno a rimanere in Serie D è la Gelbison, ormai una bella realtà, ai nastri di partenza di questo prestigioso torneo per l'ottava stagione consecutiva. L'ultima uscita amichevole sul campo del Faiano, con pagine di eccellenza, l'ha vista primeggiare con una vittoria per 2-0. Ora però la squadra, rosso-blu, si prepara all'esordio ufficiale. Avrebbe dovuto esserci il 26 agosto nel primo turno di Coppa Italia sul campo del Savoia, ma il rinvio del turno preliminare disposto alla Lega di Lettanti per il lutto che ha colpito Genova potrebbe far slittare anche questo inizio dei Cilentani nella manifestazione tricolore. Intanto, in attesa della composizione dei gironi, la società vallese ha fatto richiesta di poter essere inserita in quello che comprende compagini pugliesi e lucane. Chi ha sperato di tornare in Serie D, invece, dopo una stagione tribolata, è stato l'Agropoli, che dopo aver fallito l'obiettivo sul campo, ci ha provato attraverso il ripescaggio, poi anch'esso sfumato. Ora la squadra è in attesa di un cambio societario da qualche giorno è al lavoro agli ordini di Gianluca Esposito. Anche un'altra compagine dell'Ariaparco, come il Valdiano, ha cambiato volto sia a livello dirigenziale che tecnico. Agli uscenti, Carmine Cardinale e Dino Di Candia, sono subentrati Barbara Aumenta, Sabbia e Pierangelo Trezza. Intanto il tecnico Nastri, dopo l'arrivo di Coquen, potrà contare anche sul nuovo innesto il centrocampista rumeno Livio Antoi, 37 anni. La scorsa stagione militò con gli Irpini del Grotta, ma in passato è stato in Basilicata con la Murese, con la quale ha vinto anche una Coppa Italia regionale. Ora il Valdiano è alla ricerca di un altro under classe 2001 che dovrà essere impegnato sugli esterni. Da martedì la squadra comincerà a svolgere le sedute tradizionali in vista dell'esordio in Coppa Italia, previsto per domenica prossima sul campo della Scafatese. E i tifosi guardano con curiosità questo nuovo corso, ma anche con una certa preoccupazione.